Resterà in carcere Paola Marzenta, la 58enne che lo scorso 18 ottobre con un colpo di fucile all'onnano di Prato Vecchio uccise il marito, Dino Gori. A stabilirlo è stato il Tribunale del Riesame di Firenze che ha così respinto la richiesta avanzata dalla difesa della donna, ossia una misura cautelare meno afflittiva. Secondo i giudici fiorentini, sussisterebbe il pericolo di reiterazione del reato. Il legale della donna, Saverio Agostini, aveva chiesto per Paola Marzenta gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. La donna è detenuta nel carcere fiorentino di Sollicciano dalla sera dell'omicidio quando si costituì. La 58enne, dopo aver esploso il colpo, chiamò il suo legale i soccorsi e i carabinieri. Avrebbe raccontato di essere stata aggredita dal marito.